Viene sottolineato il problema della conciliazione, i giovani sono preoccupati di non poter conciliare lavoro e interessi personali, tempo libero e familiari, su questo torneremo perché in realtà queste sono le dichiarazioni dei giovani che devono ancora entrare nel mondo del lavoro, il confronto con le aziende ci dice che poi quando i giovani entrano tendono abbastanza rapidamente ad appiattirsi su orari FaceTime, quindi il rimanere in azienda tutte le ore che serve perché non ci si può permettere di far vedere che si esce prima, quindi questo tema della conciliazione sembra cambiare connotazione in maniera forte quando poi i giovani entrano in azienda. Emerge fin dall'inizio questo spettro del lavoro noioso e rutinario, cito una, forse sarà anche il film Tutta la vita davanti che ha influenzato però le risposte ma non credo, il call center è uno spauracchio, uno spettro terrificante che ritorna più volte di fronte agli stimoli che abbiamo offerto. Come era facile aspettarsi, per i giovani del mondo economico ingegneristico la visione del lavoro è più strumentale, prendo, mi formo, imparo il mestiere perché questo poi mi consentirà di crescere, avere status, affermarmi, tutto il mondo delle lauree umanistiche mantiene una connotazione più idealistica in cui personale e professionale sono più mischiati e quindi anche il professionale deve avere certi connotati espressivi e non squisitamente strumentali. Come arrivano i giovani a decidere rispetto al proprio percorso? Allora innanzitutto va detto che i giovani ci hanno dichiarato di aver avuto già chiaro fin dall'inizio che avrebbero fatto i cinque anni e tendenzialmente alla domanda rifareste lo stesso percorso? Con queste premesse il dato sicuramente più forte è lo scarso valore attribuito alla laurea di primo livello. Uno perché viene percepita come una sorta di incompiuta, lasciare le cose a metà, non terminare tutto il percorso. Secondo perché la percezione dei giovani è molto chiara. Sul mercato del lavoro la laurea triennale è percepita come un minus forte e chi ha fatto qualche esperienza di colloquio già lo dice. Sono state e mi hanno chiesto se ero un laureato vero o un laureato a metà. Per quanto riguarda il tema della specialistica c'è una qualche traccia di delusione rispetto alla qualità di impostazione dei programmi. Cioè una buona parte dei giovani dice che è una triennale aumentata, lo stesso esame più lungo. Questo non sempre. Ci sono alcune aree, in particolare quelle scientifiche, dove si percepisce effettivamente un carattere professionalizzante del biennio. Mentre invece in altre lauree l'impressione è che si debba arrivare al quinto anno ma senza che si aggiunga un vero valore in più in termini di professionalità e avvicinamento alla pratica, a quel mondo concreto che la dottoressa Mengoni ricordava prima. Ancora mantengono un ruolo fortissimo nella scelta i familiari inizialmente e poi i docenti che si incontrano nel proprio percorso triennale. Qui riprenderei una cosa che Elena Sala accennava in apertura e che sicuramente è un punto molto delicato. Il ruolo dei familiari. I ragazzi vengono influenzati dai familiari, dai genitori che hanno schemi vecchi. Io qui faccio una riflessione su di me. Quando ho 39 anni, quando ho dovuto scegliere la facoltà da frequentare, mio padre mi diceva che nel mondo ci sono gli avvocati, gli ingegneri, gli insegnanti e i medici. Fine. A casa nostra il mondo azienda non esisteva nemmeno. Se dovessi pensare oggi di raccontare ai miei figli cosa troveranno avrei già un aspetto più complicato e il dubbio che forse se parlo adesso o tra tre anni le cose non sono più vere. Quindi da un lato dei cicli di cambiamento del mondo del lavoro strettissimi rispetto ai quali i genitori sicuramente non hanno la possibilità di adeguarsi. Quindi si apre qui uno spazio, un punto di domanda di chi può fare questo servizio. Chi può offrire un servizio di orientamento vero e non interessato. Perché poi tutti gli operatori che stanno qui dentro hanno forti interessi a convogliare le persone in una certa direzione. Il lavoro ideale per i giovani. Abbiamo fatto fare dei poster, una cosa molto divertente e sono uscite alcune cose. La conciliazione, della quale abbiamo già detto prima. Il tema del viaggio. Desiderio di lavorare in contesti internazionali molto multiculturali. Diciamo da subito che poi le aziende su questo ci hanno aiutato a smantellare la dichiarazione. Cioè, sì, idealmente i ragazzi pensano di voler fare un lavoro che consenta di viaggiare e vedere il mondo. Poi, ricordo, la battuta in un focus è stata. Quando io dico c'è da andare a Pechino, cala il silenzio all'interno della sala. Nel senso che poi, messi di fronte alla situazione reale di prendere e partire, si ridimensiona molto questa spinta. Anzi, c'è una tendenza a avere le cose un po' tutte vicine e comode a casa. Creatività. I giovani si portano sicuramente dietro che questo che probabilmente è un asset anche da valorizzare in chiave aziendale. E c'è questa forte volontà di esprimere se stessi e di non essere in qualche modo omologati all'interno di processi e situazioni standardizzate. E la retribuzione, vista però non fine a se stessa, ma sempre in una chiave molto strumentale. Qui forse si riflette l'animo inquieto di chi vive in un'epoca in cui non so se mi farò una casa, se potrò costruirmi una famiglia. Non vorrei riandare a Sennet, il sociologo americano, ma effettivamente c'è un problema di progetto di vita parallelo all'avere le risorse economiche per farlo. Rispetto a questa slide, però, vorrei lanciarvi una veloce suggestione su ciò che non c'è. E che è stata una riflessione fatta molto intensamente con le aziende nei focus. Mancano i riferimenti al contenuto del lavoro. I giovani dicono, deve permettermi di conciliare la creatività, viaggiare, la retribuzione. Le attività, il contenuto del lavoro da una parte. E dall'altro, anche ci è sembrato di cogliere l'assenza di una carica di idealità, che invece nella nostra società, per altri versi, è molto presente. Alcuni temi forti di sostenibilità ambientale, di movimenti attenti alla responsabilità sociale. Qui la nostra ipotesi, la nostra riflessione, è che in realtà il lavoro, ma soprattutto l'azienda, non siano visti come i luoghi per dare spazio a questi bisogni di idealità. E questo rientrerebbe, se volete, nell'idea che oggi le persone sempre di più sviluppino un tema di pluricollocazione, di pluriappartenenza, per cui tengo insieme una serie di ambiti diversi, ciascuno deputato a soddisfare certi bisogni, rispetto a una situazione più totalizzante delle generazioni passate, in cui all'interno di uno o due contesti si andavano a convogliare tutte quante le necessità, le pulsioni, i bisogni espressivi. Grazie.